Soagli Dal silenzioso lavoro del filugello è già arrivata qui la seta Fili tesi come corde d'arta, ragnatele splendide come fasci di raggi Ruotare degli incanatoi poligonali, avvolgersi dell'ordito sui subbi Raggiunge case modeste questo ordito rilucente Soagli è il solo paese al mondo dove sia sopravvissuta la tessitura artigiana dei velluti Da 60 anni Nonna Catainin lavora su questo telaio arcaico Un lavoro paziente Non tesse più di 40 centimetri al giorno Aziona la macchina con 5 pedali come un organista E le mani creano con lo speciale pettine le fioriture Battito assiduo come quello degli anni Età per lavorare, età per gioire Grazie Grazie Grazie